Aldo, ore 19, il 24 luglio 2018, passeggiando di sera nella via principale di Brumano, è un paese piccolissimo dell'alta Valimagna. Ecco qua cosa vedo di fronte, poi c'è la chiesa sovrastante e si sale da questi gradini per andare alla chiesa. Qui attraverso la via, è una via sola diciamo, Brumano principale, però ci sono delle belle case. Non è un borgo mediovale, è un borgo moderno, ci sono delle case nuove e mi trovo quest'ora alle ore 19, dopo un temporale fortissimo che c'è stato qui in Valimagna verso il pomeriggio, mentre a Milano c'era il sole. Ecco che mi incammino, voglio fotografare di nuovo la chiesa col campanile e il viale dove io proseguo il cammino e questa strada va a un'altra strada davanti, dove mi porta dopo 6-8 chilometri al paese di Fui Piano. Fui Piano è un altro paese della Valimagna, lo chiamano il tetto della Valimagna perché è il più alto, 1075 metri Fui Piano, mentre dove sono tuttora, paesino di 100 abitanti, facciamo 104 perché sono nati dei bambini attualmente, qua l'altitudine di Brumano è 975 metri e stasera si sta benissimo come...